No, effettivamente ho vissuto da distanza, ero corrispondente da Parigi all'epoca dell'11 settembre, quindi non ero qui. Però l'atmosfera che si respira effettivamente è un'atmosfera molto triste per le strade di questa città, che da ieri sera alle 20 ha chiuso anche i suoi ristoranti e i suoi pub, come hanno fatto ovviamente anche le città di quasi tutta Europa. Vedere ieri sera, facevo delle dirette da Times Square per portare appunto questa New York nelle case degli italiani, vedere questa Times Square che è sempre una piazza gremita di gente, svuotarsi e le uniche cose che restano sono queste luci abbaglianti dei tabelloni pubblicitari che contrastano ancora di più con l'atmosfera intorno, quindi creano effettivamente questa atmosfera di malinconia, per questo mi era venuta la scontata idea. Quanto a come questo paese vive questa emergenza, mentre proprio aspettavo il collegamento davanti a me, ho il monitor sempre acceso della CNN, pensate, la CNN trasmetteva le immagini del Papa, che fa la passeggiata solitaria per le strade di Roma per andare a pregare. Per dirvi come comunque i rapporti tra le due sponde dell'Atlantico sono così forti, gli Stati Uniti si sono svegliati, hanno capito che l'emergenza del coronavirus era veramente un'emergenza quando hanno visto le amatissime strade italiane da Venezia, Milano, Roma, Firenze, assumere l'aspetto che noi ben conosciamo. Questo è proprio un rapporto molto stretto che c'è, ricordo anche il bellissimo tweet del Presidente Trump, che ha voluto postare un'immagine delle frecce tricolori dicendo che gli Stati Uniti amano l'Italia. C'è una grande vicinanza tra i due paesi, per quanto riguarda le notizie, purtroppo anche qui, come vi dicevo, ieri Trump ha in qualche modo dato a battesimo un decalogo, raccomandazioni che molti stati hanno già reso stringenti, la cosa che colpisce di più è evitare riunioni anche familiari con più di dieci persone, e questa città in particolare ha un terzo della popolazione, come sappiamo è di origine ebraica, si avvicina la Pasqua, anche qui la Pasqua ebraica, il Pesach, e quindi molte cene che erano state organizzate, ci si raduna come da noi a Natale, sono già state cancellate. E poi appunto una città che si spegne giorno dopo giorno con i numeri che crescono anche qui di questa emergenza, e con un grande spettro che essendo gli Stati Uniti la prima potenza economica, ovviamente, inevitabilmente, poi quest'ombra si allunga in tutto il mondo. Trump ha dovuto ammettere per la prima volta ieri di fronte a una borsa che ha perso addirittura il 13%, che probabilmente ha detto, forse, non esclude, che quest'anno gli Stati Uniti che crescevano molto bene potrebbero entrare in recessione. Questa naturalmente, essendo il peso dell'economia americana, è una notizia che ci riguarda da vicino. Grazie, grazie Claudio Pagliara, buon lavoro da New York. Grazie.